Un progetto iniziato sei mesi fa è promosso dalle associazioni Giovanni Paolo II di Polignano e del Zotano di Saltio in Messico. Far conoscere ai bambini l'arte di Pino Pascali in un gemellaggio con il Messico che ormai è consolidato da diversi anni a questa parte. Il risultato sono tante coda di balena, l'opera simbolo di Pascali, create dagli artisti in erba secondo la loro fantasia. Colorate e decorate sono in mostra presso la Fondazione Pascali da sabato scorso. Nella serata inaugurale anche due scrittori come Enzo IV e Nicolò Carnimio con le loro storie di bambini hanno voluto rendere omaggio ai piccoli Pascali in diretta streaming con il Messico dove in contemporanea si inaugurava la mossa dei bimbi messicani. È un lavoro realizzato da bambini, il nostro obiettivo sono i bambini. La nostra associazione con l'associazione messicana si occupa di gemellaggi, di scambi interculturali, di colori, di musica e questa è una realtà che noi vogliamo portare avanti. Anche perché è in nostra intenzione anche fare un gemellaggio a livello riconosciuto, a livello anche comunale con la città di Sartillo in Messico. La cosa importante è che ai bambini insegniamo un grande artista di Polignano, Pino Pascali. Sì, è la cultura di uno dei più grandi artisti del Mediterraneo a livello nazionale, internazionale, Pino Pascali e sia un bene riconosciuto da tutti. C'è un artista che ha lasciato una grandissima impronta a livello mondiale. Grazie. 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 Grazie.